Buonasera, io sono Andrea Di Stefano, sono il direttore del mensile Valori, un mensile che si occupa di questi temi da più di dieci anni, promosso dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica. Noi in questi anni abbiamo raccontato molte di queste buone pratiche, quelle a cui faceva riferimento Giosuè, buone pratiche che sono servite anche alle comunità a capire quali sono i problemi di un sistema economico che scarica i costi sulla collettività, costi ambientali, costi sociali, costi materiali, sono almeno vent'anni che si parla delle ricadute di queste dinamiche, del fatto che poi la collettività è costretta a pagare i costi che sono determinati da una logica che vede al centro un unico dogma che è quello del profitto fine a se stesso. Le comunità, i popoli hanno messo in campo delle pratiche nuove, hanno imparato già loro a internalizzare i costi perché si pongono loro le domande su come ridurre l'impatto ambientale, su come combattere le diseguaglianze sociali, su come ricostruire le comunità e i territori evitando la disgregazione. Io penso che questa occasione di Expo dei Popoli debba essere l'occasione per lanciare delle proposte concrete che trasformano queste buone pratiche in iniziative politiche e in provvedimenti che possono dare una linea molto chiara di far pagare al profitto almeno una parte dei costi che ricadono sulla società, sul territorio, sulle persone. Spero che da questo punto di vista l'occasione dell'Expo dei Popoli sia un filo conduttore. Siamo partiti, non so quanti di voi se lo ricordano, ma 10-15 anni fa alcuni pochi che erano considerati un po' degli utopisti, dei sognatori, parlavano della Tobin Tax, di una tassa sulle transazioni finanziarie. Oggi la tassa sulle transazioni finanziarie, seppur con una serie di conflitti, di contraddizioni, seppur con l'attacco violento delle lobby finanziarie che non vogliono ovviamente l'attuazione, è diventato un progetto concreto, è un provvedimento dell'Unione Europea, diventerà legge in alcuni paesi, lo è già, è già un provvedimento che è operativo. Secondo me bisogna proseguire su quella strada, perché la tassa sulle transazioni finanziarie non ci sarebbe stata se non ci fosse stata la mobilitazione, le campagne in Italia, una campagna che per chi l'ha seguita secondo me è stata molto efficace e molto mobilitante alla 005. Per chi segue internet con l'hashtag TTF o 005 può informarsi, ci sono diversi siti che raccontano che cosa significa e quanto può pesare questo provvedimento oggi, ma soprattutto quanto può pesare in futuro. Secondo me quello è solo il primo passo. Io spero che l'occasione dell'Espo dei Popoli, per esempio, possa mettere sul tavolo una richiesta forte per una carbon tax, per una tassa sulle emissioni connesse all'uso delle sostanze fossili, perché i costi di quel modello economico li paghiamo tutti, perché i cambiamenti climatici non sono più, anche in questo caso, non sono più appannaggio né degli esperti né di quelli che pensano che sono sognatori. Sono un dato di fatto, acclarato, lo dicono gli scienziati, lo vediamo tutti i giorni, lo misuriamo con mano, questa città l'ha misurato e non poche volte, ma ormai non c'è nessun territorio che sia assente o che sia salvo rispetto a queste dinamiche. Quindi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità. Se dobbiamo fare in modo che ci sia una trasformazione reale, che si incominci a lavorare arginando alcune logiche di profitto, che sono dannose per tutti, che sono mortali per tutti, che alcuni potrebbero definire delle armi di distruzione di massa, perché così è stato, se pensate per esempio al ruolo della finanza. Allora il passo ulteriore deve essere quello per esempio di una grande campagna di mobilitazione pubblica per avere un provvedimento sulla carbon tax, per fare in modo che le risorse della carbon tax servano per avere quelle disponibilità per gli interventi nel territorio, per l'insanamento ambientale, per favorire quella transizione che in molti territori è possibile. Il Mediterraneo potrebbe essere in prospettiva, lo dicono gli studi, le ricerche, potrebbe avere un'autosufficienza energetica utilizzando due cose, le rinnovabili e il risparmio energetico. Noi possiamo farlo, ci sono i dati che lo dicono chiaramente, puntando seriamente su rinnovabili e risparmio energetico si potrebbe avere un'autosufficienza energetica, una riduzione drastica delle emissioni climateranti e i costi dell'energia più bassi, ma non possiamo fare questo fino a quando c'è una competizione al ribasso delle fonti fossili, anche se il petrolio oggi è sceso, anzi a maggior ragione perché oggi è sceso, questa è un'opportunità eccezionale per lanciare questa campagna e per far capire in questo caso concretamente che si può far pagare i costi che un certo modello economico, che punta solo alla realizzazione del profitto, scarica sulla collettività. Vi dico solo un dato, in questi anni di iperbolla petrolifera con i prezzi molto alti, le compagnie petrolifere, le sei principali compagnie petrolifere hanno decuplicato i loro profitti, adesso piangono perché il petrolio è sceso e minacciano ovviamente di licenziare i lavoratori, i posti di lavoro, ma hanno decuplicato i profitti negli ultimi dieci anni e questo non può essere accettabile, esisteva addirittura nella teoria liberale dell'economia la necessità di un intervento quando c'è una situazione in cui si realizzano dei profitti che sono inaccettabili, che vengono considerati extra, super, che non sono in linea con l'andamento del mercato. È venuto il momento di realizzare questo ed è un altro passo di un percorso, non è la fine, è solo l'inizio. Grazie. 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 Grazie.